ora vediamo che cosa ci possiamo scrivere dentro a questi dischi perché per poterci inserire le informazioni abbiamo bisogno di un linguaggio abbiamo bisogno di regole chiare definite condivise tra i vari programmi specialmente se abbiamo a che fare con un sistema operativo che deve gestire i file per degli applicativi fatti da chissà chi all'interno di un ambiente promiscuo dove ci sono tanti programmi che si appoggiano tutti allo stesso disco e agli stessi file per questo motivo parliamo di file system il file system che cos'è è il modo che utilizzano i computer per scrivere i file all'interno del disco in un punto del disco abbiamo le informazioni sulla struttura e poi nel restante porfine di disco abbiamo i dati veri e propri i dati sono buttati sul disco in maniera molto sparsa e ogni tipologia di file system utilizza delle informazioni diverse e scrive i dati sul disco in maniera molto diversa dalle altre alla prima traccia i primi 512 byte è una quantità minuscola però all'interno di questi 512 byte chiamati mbr master boot record sono memorizzate una serie di informazioni che dichiarano un po la geometria del nostro disco che ci spiegano come questo disco viene partizionato allora nei primi sistemi ms dos avevamo una cosa simile a questa dove tu scrivi f disk o anche nei sistemi linux la stessa cosa però non funziona probabilmente bisogna installarlo su windows 10 a cosa serve f disk quella cosa che in gestione computer viene chiamata gestione disco nel mio computer c'è un disco 0 da 260 megabyte è una partizione di questo disco un po più grosso probabilmente all'interno di quella partizione ci sono delle informazioni per ripristinare il sistema quando qualcosa va molto male molto storto dopodiché questo disco 0 ha un'altra partizione chiamata in gergo c due punti e il file system vedi è di tipo ntfs questo è il disco c dove c'è il sistema operativo nel master boot record oltre a definire come sono strutturate le geometrie dei nostri dischi e c'è anche scritto dove comincia il primo byte da eseguire del sistema operativo da eseguire quando il computer è ancora vuoto quando è stato appena acceso quindi il master boot record è molto importante se voi cancellate il primo pezzettino del disco quello dove ci sono i primi 512 byte non vi sarà più possibile avviare la macchina allora data d è un altro disco che io ho installato che è il vecchio disco che avevo prima mentre il disco che avevo prima era un disco magnetico il disco 0 è un disco stato solido e quindi è anche molto molto più veloce il sistema operativo si avvia dal disco c però molti dati sono anche sul disco d tipicamente ci metto i video che registro come backup attraverso fdisc noi possiamo realizzare all'interno del disco fino a quattro partizioni primarie cosiddette primarie o eventualmente anche delle partizioni estese una delle quali è la partizione appunto di boot che cosa definisce il nostro file system definisce la modalità di scrittura dei dati definisce la modalità chiaramente di lettura dei dati la modalità di cancellazione e poi se vogliamo anche il copia ma la copia è una modalità di lettura scrittura o di move per diciamo spostamento dei file e ogni tipo di file system decide quali sono le modalità per scrivere e leggere questi dati all'interno della struttura dati per esempio file system fat era un sistema di memorizzazione dei file che avevamo nei sistemi ms dos che poi diventato ha fatto 32 quando il sistema si è un po evoluto e diventando fatto 32 si porta ad avere 32 bit se facciamo 2 elevato alla 32 scopriamo che ci permette di indirizzare all'interno del nostro disco fino 4 giga per dischi superiori ai 4 giga di memoria anche il fat 32 non va più bene dobbiamo passare a ntfs o a ex fat un tipo particolare di fat estesa storicamente nella vecchia fat i file potevano avere un nome composto da otto caratteri e una estensione composta da tre caratteri non c'era distinzione tra maiuscole e minuscole e mentre gli otto caratteri iniziali ci davano il nome del file i tre caratteri chiamati estensione identificavano il tipo di file che rappresentavano non era obbligatorio dare l'estensione giusta ai file ma il sistema operativo non ci capiva più niente se un file per esempio eseguibile che aveva estensione punto ex se tu lo chiamavi per esempio punto jpg non capiva più che quello era un file eseguibile o peggio ancora se chiamavo un'immagine jpeg con l'estensione punto ex rischiavo di mandare in esecuzione un'immagine una cosa che non sta né in cellula e in terra nei sistemi più evoluti come windows per esempio come linux i sistemi grafici con un desktop grafico ogni tipo di file ha anche associata all'estensione una certa icona per esempio questo è un file pdf quello che ho aperto prima se io lo rinomino e lo chiamo jpg ecco che lui cambia icona per quale motivo perché il sistema operativo sa che le immagini tipo jpeg devono essere aperte con un programma per esempio foto però chiaramente se io apro o se tento di aprire questa immagine che è una jpeg con un programma di tipo foto lui non sa che farcene mi dà un errore quindi ripristiniamo l'estensione nei sistemi già come fat32 non c'è più il limite di otto caratteri per il nome file e non c'è più il limite di tre caratteri per l'estensione ma ancora abbiamo l'insensibilità alle maiuscole e alle minuscole nei sistemi unix invece tipo linux è molto importante rispettare anche le maiuscole e le minuscole quello che viene chiamato il case sensitive ad ogni file in base al file system che abbiamo possiamo anche assegnare dei permessi i permessi che si possono associare sono permessi per esempio di lettura di scrittura o di esecuzione non in tutti i file system ci sono questi permessi in alcuni file system oltre che il singolo permesso c'è anche l'associazione di questo permesso a un particolare utente per esempio nei sistemi unix abbiamo ringrazio andrea minini che ha pubblicato questa foto attraverso il comando ls noi possiamo visualizzare il contenuto della directory corrente vediamo con queste lettere d vuol dire che è una directory r vuol dire che è un permesso di lettura v che vuol dire che permesso di scrittura x vuol dire che c'è il permesso di esecuzione root può fare tutto può leggere scrivere e eseguire i file il primo gruppo rvx riguarda i permessi del proprietario del file il secondo gruppo rappresenta i permessi per gli utenti diversi dal proprietario appartenenti allo stesso gruppo e la terza terna rappresenta i permessi per tutti gli altri anche appartenenti agli altri gruppi perché dentro unix puoi suddividere gli utenti per gruppi con chmod 777 naturalmente diamo permessi di lettura scrittura ed esecuzione al file che andiamo ad indicare e esistono anche altre sintassi ma oggi non non è il caso di andarle a vedere tutte parliamo di directory in quasi tutti i file system è possibile creare le directory le directory o cosiddette cartelle le directory sono dei raccoglitori e quindi sono una suddivisione logica di questi file che ci permettono di archiviare in maniera più ordinata i file all'interno del nostro disco non c'è concetto di cartelle i dati sono buttati tutti alla rinfusa e come si fa a identificare i byte scritti sul disco che cosa rappresentano all'interno di questa prima zona di memoria è scritto qua come sono organizzati infatti che cosa succede quando noi cancelliamo un file generalmente anche se questo file è enorme ci mette veramente poco il sistema operativo a cancellare un file e perché ci mette così poco perché lui semplicemente depenna all'interno di questa prima zona di memoria del disco l'informazione di quel file e dice semplicemente che quel file non c'è più è stato cancellato in genere esiste un flag un bit all'interno di questa set di informazioni che viene impostato su file cancellato quindi neanche viene tolta l'informazione ma viene come depennato quel file e nei sistemi operativi come windows possiamo immaginare questo concetto con il fatto che è stato messo il file nel cestino quindi mettere un file nel cestino significa depennarlo all'interno di questo blocco informativo dopodiché se noi vogliamo distruggere il file diciamo svuota il cestino anche in questo caso ci mette un attimo perché l'informazione viene cancellata dalla nostra directory ma non viene rimosso ancora dal disco le informazioni sono ancora effettivamente lì sopra quando è che il file viene effettivamente cancellato ci sono due possibilità o noi utilizziamo un programma per esempio eraser che si occupa di cancellare fisicamente i file dal disco cioè ci scrive sopra in quella zona dove c'è il file ci scrive sopra talmente tante volte un certo tipo di file sempre diversi in maniera casuale con certi determinati algoritmi tale per cui se io vado là con un microscopio elettronico e vado a cercare di capire che cosa c'era scritto lì sopra è quasi matematicamente impossibile risalire all'informazione che c'era sul disco se io invece dopo aver cancellato il file dico aiuto come faccio a recuperare il file nessun problema il file è ancora lì devo utilizzare un altro programma per andarlo a recuperare chiamato disk digger o un programma analogo vedi che c'è una bella pala perché va a scavare all'interno delle tracce fisiche del nostro disco e va a cercare quelle sequenze di bit di dati che sono caratteristiche dei file e che all'interno del singolo file rappresentano per esempio che si tratta di un'immagine jpeg o di un'immagine png o di un file eseguibile e in qualche modo questi programmi riescono ancora a recuperare anche dopo che li abbiamo cancellati o peggio ancora avevamo la nostra chiavetta usb che aveva dei dati in memoria e noi l'abbiamo strappata via senza fare l'estrazione del disco con tool di rimozione del disco e i dati sono rimasti scritti in maniera in maniera sballata ecco con questo tool noi riusciamo in qualche maniera a recuperare i file attenzione non saranno più belli come un tempo come quando ce li avevamo scritti bene sul disco tutto questo per dire un altro modo per distruggere il file definitivamente è scrivere sul disco altre informazioni generalmente il nostro sistema operativo tenderà a occupare tutto lo spazio disponibile lui comincia a scrivere un file qui un file di qua un file qui io non so dove vuole andare a scrivere il suo file ma a un certo punto arriverà a completare talmente tanto spazio e i file per poter essere scritti sul disco hanno bisogno di essere frammentati la frammentazione di un file è che per esempio scrivo un pezzettino di file qui poi non c'è più posto e l'altro pezzettino di file lo scrivo per esempio qua ecco io posso avere il mio disco molto frammentato e il tempo di accesso per riuscire a leggere tutto quel file lì comincia ad aumentare per questo motivo esistono degli strumenti di deframmentazione questo disco è 0% frammentato nella frammentazione questo meccanismo che serve per far stare i file sul disco anche quando non c'è abbastanza posto per far sì che il file sia tutto contiguo che il suo cluster tenga dentro di sé tutto il file la frammentazione si fa anche per un altro motivo in un disco che per esempio può avere due o più testine può essere molto comodo scrivere un pezzo di file attraverso una testina un altro po di file con un'altra testina e quindi fare una scrittura in parallelo se non si tratta di un unico disco con più testine certamente posso utilizzare un'altra tipologia di scrittura che è il sistema raid che mette insieme tanti dischi ma il sistema operativo li vede tutti come un unico disco esistono dei sistemi di raid per la ridondanza dei dati quindi per scrivere tante volte le stesse cose in modo che se si rompe un disco lo posso recuperare perché una copia da un'altra parte esistono dei raid che servono per aumentare la capacità dei dischi e quindi per esempio aumento il numero di dischi per aumentare la capacità ma esistono dei sistemi raid che servono per aumentare la velocità di scrittura quindi scrivere su tanti dischi in parallelo ognuno un pezzettino di file per riuscire ad essere più veloce i sistemi raid quindi possono darci più sicurezza attraverso la ridondanza ci possono dare più capacità ci possono dare più velocità con i dischi a stato solido il discorso di velocità viene un po meno perché i dischi da stato solido sono veloci quanto la ram o quasi quanto la ram quindi sono estremamente veloci facciamo una breve carrellata dei file system che conosciamo allora sistemi unix abbiamo ext 2 un tipo di file system storico che poi è diventato ext 3 con il supporto al journaling quindi per aumentare la velocità per aumentare le performance fino ad arrivare ad ext 4 che diciamo è l'evoluzione migliore del file system tipo ext per extended file system il file system tipo ext 4 è molto comodo perché è immune alle cadute di tensione attraverso al meccanismo di journaling il sistema di journaling è un meccanismo che come dice la parola stessa permette di tenere traccia di tutto quello che viene fatto sul disco in maniera tale che dopo aver finalizzato il salvataggio di un file io chiudo la transazione all'interno del journaling e solo quando il journaling è stato decretato il file è sicuramente scritto bene sul disco quindi può cadere la tensione può succedere qualsiasi cosa il file è lì e siano sicuri nel momento in cui il file è in scrittura quindi non abbiamo ancora finito di scrivere e il journaling non è stato aggiornato se va via tensione perdiamo quell'informazione ma non si compromette comunque la struttura dell'intero file system come invece succede con altri file system come il fat per le messe dos o altri file system tipo fat fat 32 ex fat o ntfs questi sono molto usati nelle chiavette usb e poi abbiamo dei file system tutti particolari per icd rom tendenzialmente il più usato è l'iso 9660 laddove abbiamo le informazioni che sono scritte in un modo un po particolare ma per esempio anche nell f2fs flash friendly file system è un file system particolarmente adatto a quei dischi a stato solido che hanno bisogno di scrivere le informazioni in maniera sequenziale per riempire al meglio i blocchi per utilizzarli in maniera bilanciata per cancellarli a blocchi interi e non un bit per volta abbiamo visto come sono fatti dischi abbiamo visto che cosa sono i file system più o meno abbiamo visto che caratteristiche deve avere un file system cosa ci manca bisogna capire adesso come si fa a programmare il computer per scrivere per leggere per spostare questi file qualsiasi sia il sistema operativo o il linguaggio che tu vuoi utilizzare siccome questa è una playlist dove io ti insegno a programmare il computer qualsiasi sia il linguaggio di programmazione comunque c'è una componente in comune in tutti i linguaggi di programmazione ovvero sia che ogni volta che tu vuoi scrivere un file o ogni volta che tu vuoi leggere un file che è già presente sul supporto di memorizzazione devi aprirlo quindi per prima cosa bisogna sempre utilizzare la open anche la fo pen che vuol dire file open sono entrambi funzionano entrambi lo stesso modo in base al linguaggio di programmazione che tu stai utilizzando utilizzerai la open la fo pen eccetera e ti devi leggere sul manuale come funziona la sintassi tendenzialmente bisogna dare due parametri che sono il path si intende il nome del file completo di path di percorso e la modalità abbiamo la modalità read only la modalità read only significa che io voglio aprire quel file in sola lettura naturalmente se apro un file in modalità sola lettura il file deve esistere quindi la open potrebbe anche tornarmi errore dicendomi guarda che quel file non esiste oppure potremmo desiderare di aprire il file in modalità write only la modalità write only apri un file e ci permette solo di scrivere e non di leggere non ci costa niente ad aprirla in modalità read write cioè che possiamo sia leggere che scrivere nella modalità di apertura per la scrittura abbiamo due possibilità ho la create quindi se il file esiste lo apri e lo sovrascrive se il file non esiste lo crea l'altra modalità in alternativa alla create è la append quindi se un file non esiste lo crea e comincia a scrivere dall'inizio altrimenti se il file esiste già sul nostro file system lo apre in modalità scrittura ma i dati li continuano a scrivere dal fondo tendenzialmente la append viene utilizzata per scrivere dei log quindi per continuare a scrivere delle cose all'interno di un file che contiene già delle informazioni la fwrite o la write ci permettono di scrivere qualcosa all'interno di un file la read ci permette di leggere dei byte da un file se ho bisogno di spostarmi qua e là all'interno del file per andare a scrivere in un punto preciso del file o se ho bisogno di spostarmi in un certo punto per la lettura di determinate informazioni attraverso la fsic posso posizionare la testina di lettura all'interno del file dove voglio arbitrariamente poi ci sono delle istruzioni diciamo così dei comandi molto specifici per esempio la fprintf quasi tutti dovrebbero conoscere la printf la printf serve per scrivere delle cose a terminale ma se ci metto la f davanti quello che scrivo la sintassi è la stessa medesima della printf ma con l'aggiunta del puntatore al file che ho aperto l'analogo della fprintf è la fscanf chi utilizza la scanf per leggere delle variabili da input di tastiera può utilizzare la fscanf per leggere dei dati strutturati in maniera ad alto livello all'interno di un file qualsiasi cosa che io faccio sui file alla fine devo sempre chiudere il file attraverso la fclose o in altri linguaggi attraverso la close semplicemente quindi per oggi direi che è tutto se vi è piaciuta questa lezione mettete un bel like condividete queste lezioni con tutti i vostri amici che vogliono imparare a programmare il computer se avete bisogno di contattarmi mi trovate sempre su tutti i social sono su youtube su facebook su linkedin su instagram e su cam tv per oggi è davvero tutto vi mando un grande abbraccio vi saluto ciao